Ci ho ripensato, forse ha ragione la signora che sono troppo magra. Così mi rimetto un po' in carne. L'uomo bianco è arrivato nella terra degli Inuit. Questa è la nostra terra. L'uomo bianco non può venire a dirci cosa dobbiamo fare. È arrivato portando le sue armi e la sua legge. Quanto pensate di sopravvivere senza di noi? Una legge che non potrà mai essere accettata. Ho paura dell'ira di Agawook quando incontrerà l'uomo bianco. La storia di un grande guerriere. Una grande avventura. Donna Sutherland. Toshiro Mifude. Blue Diamond Phillips. Nella prima volta in televisione, l'ombra del nuvo. Domani sera alle 20.30 su Italia 1. Ci ho ripensato. Forse ha ragione la signora che sono troppo magra. Così mi rimetto un po' in carne. L'uomo bianco è arrivato nella terra degli Inuit. Questa è la nostra terra. L'uomo bianco non può venire a dirci cosa dobbiamo fare. È arrivato portando le sue armi e la sua legge. Quanto pensate di sopravvivere senza di noi? Una legge che non potrà mai essere accettata. Ho paura dell'ira di Agawook quando incontrerà l'uomo bianco. La storia di un grande guerriere. Una grande avventura. Donna Sutherland. Toshiro Mifude. Blue Diamond Phillips. Nella prima volta in televisione, l'ombra del nuvo. Domani sera alle 20.30 su Italia 1. La storia di Agawook quando incontrerà l'uomo bianco. Spesso con KitKat. Nuova prima. No. 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 Nuova Primera, 5-6 ottobre, dai concessionari Nissan. Per una pelle più morbida, Nivea Soft, fresca come una pioggia estiva. Nivea Soft, tanta idratazione e morbidezza, subito. Ci ho ripensato, forse ha ragione la signora che sono troppo magra. Così mi rimetto un po' in carne. L'uomo bianco è arrivato nella terra degli Inuit. Questa è la nostra terra. L'uomo bianco non può venire a dirci cosa dobbiamo fare. È arrivato portando le sue armi e la sua legge. Quanto pensate di sopravvivere senza di noi? Una legge che non potrà mai essere accettata. Ho paura dell'ira di Agawook quando incontrerà l'uomo bianco. La storia di un grande guerriere. Una grande avventura. Donna Sutherland. Toshiro Mifude. Blue Diamond Phillips. Nella prima volta in televisione, l'ombra del muro. Domani sera alle 20 e 30, su Italia 1. e l'ombra del muro. Spezza con KitKat. Siamo nelle sue.